Francesco, anzi Fabrizio e Massimo, grazie, prego Salve 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 Ma che sono, quelle preparative queste sono? Sì, sì, quelle, due anni fa queste Ah, due anni fa? Sì, sì E le altre? Le altre saranno dopo l'operazione, 15 anni Ah E molto che aspetta di essere operata? No Ah Dal giorno della mia prima conio Piano, piano, piano Piano, piano che tira Piano, piano che tira Piano, piano, che c'è? Guardi qua, guardi qua Che c'è? Con la tonacchetta! C'è, c'è pronta Giustamente Piano, guardi, mi è caduta con la fascia Piano, piano che tira Piano, piano, piano Piano, piano Lei da quant'è che aspetta? Io peggio Io peggio io dal giorno del mio battese guardi che c'è qua ha visto? era, era, era cioè lei non è messo bene eh non mi sono messo bene sicuramente non sta sicuramente legge ma perché lei vuole dire che c'è più malattia di quelle mie mi sa di sì, mi sa di sì ah ma non ti mi dica nessuno allora potete ce l'ho gastrointenite la salmonella ce l'ho, ce l'ho ce l'ho, ce l'ho forse lei non ha capito guardi, guardi che c'è scritto qua bene albume delle malattie eh, io praticamente l'ho completato tutto l'ho completato pure io ma che mi dici però mi sono rimasti, guardi guardi, le faccio vedere mi sono rimasti un sacco di doppioni doppioni dove sono? guardi, guardi, guardi mi sono rimasti un sacco di doppioni ah ma non si preoccupi dove siamo qui? in ospedale e vorrà dire che regalerà qualche malattia a chi ancora non l'ha completato lei dirò di più sul mio sacco di salute lei sicuramente non ha avuto più di una malattia con la stessa lettera io invece sì ho trovato il malattino perfettino avanti, mi dico a una qualunque lettera dell'alfabeto tanto io ce l'ho a casaccio a casaccio malattia con la B nell'ordine una verruca a 4 anni la paricella a 10 le paricelle a 25 la paricella a neurocella a 30 e purtroppo da qualche giorno anche parla, parla, parla la vaginite la vaginite! ma perchè stavo facendo così? ma perchè mi deve denigrare davanti a me? se lo dico a bassa voce un motivo ci sarà ma perchè lei ha malattia a fare, mi scusi ma poi scusi, con tutti gli ormoni contenuti nelle medicine ci manca poco e provo a trazione per gli uomini e io questo lo sa bene io lo sa bene sia l'ora e lei invece? ah guardi io sono talmente malato che l'ultima volta che il medico mi ha dettato il vaccino si è ammalato lui ma chi il medico? no il vaccino le dico di più io ho sofferto anche di ansia ah di attacchi di panico ah che mi hanno procurato un ascesso dentale ah esattamente malattico A ah guardi appena nato sono stato ricoverato per l'acetosi a un anno avevo l'annemia a due l'asma bronchiale e a tre l'artrosi cervicale l'artrosi cervicale l'artrosi cervicale l'artrosi cervicale come mai? e molto probabilmente saranno stati tutti gli sciampi che mia madre mi faceva a 3 anni ma forse lei aveva una folta capiglietta come un parruccone no 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 io soffrivo di forfora a pezzettone ma non faccia gesto basta che lei dice forfora a pezzettone la gente capisce no no guardi addirittura si deve figurare che mia madre mi utilizzava come albero come neve per l'albero di natale no mio zio anzi mio nonno come zucchero per il caffè e mio zio mi snaffava addirittura guardi ah non mi posso lamentare guardi malattie con la R raga di anali rinite allergiche e rabbia si ma com'è rabbia? si quando mi sentivo solo come un cane mi immagino fu qualche fase di depressione pure vero? si si mi dice se ho dei psichiatri ah 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 malattie con la D con la D si dermatite seborroica daltonismo dislessia diabete di verticolite acute pensi che ho avuto pure la D-R del viaggiatore non sono mai partito da palermo la D-R del viaggiatore non è mai partito da palermo ti dico ma come l'ha curata? che cosa ha fatto? una cura omeopatica alle prugne e come? una cagata guardi io che le devo dire che non soffro pure di ermia del disco eppure ho sempre scaricato musica da internet eppure io che non amo il pesce l'abbia venuto un polico nel naso mi dispiace eh e quell'ernia? 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 eh non è l'unica malattia con la E ah no? eh no? eh no? questo è il disco dell'ernia che sei incertato io ho sofferto pure di emicrania di enterite e anche di emorroidi e emorroidi sono malattie stagionali di passaggio così ma quelle malattie di passaggio? guardi quanti tu sei figurato che l'orstetica quando mi ha tirato fuori dice che mi ha preso fuori per l'emorroidi ma non ho capito che cosa volesse dire però non indagiamo lasciamo cadere la cosa ma è la stessa ma un attimo la E eritema eczema epatite esofagite e purtroppo da qualche giorno anche palle eiaculazione precoce le eiaculazione precoce ma perché sta gridando sempre per le mie cose? perché grida? ma perché non è la malattia stagione? scusi prima la vaginite ora le eiaculazione precoce anzi a proposito ma che usa per la vaginite? patata x crema ah mi piace e poi è rinfestato si ci trova si ci trova si ci trova rilassiamoci si rilassiamoci che è meglio mi dico un'altra cosa ma qui dentro qui cosa c'è? ah questo è il trolley delle mie farmacie è una farmacia no no i miei farmaci io spesso sono in movimento no? allora che faccio? una mano al trolley e una mano al tram e quando mi serve un farmaco io lo prendo ma perché lei niente ha con sé ah lei la ritiene mia farmacia ambulante sono i farmaci quelli più stretti di primo intervento di prima necessità di primo intervento quelli più stretti bravo ah comunque guardi io mi rilasso quando si parla di farmaci qua facciamo scrivere dei poemi delle poesie che bellezza ma come sarebbe un mondo senza farmaci? mondo senza farmaci come sarebbe un mondo senza farmaci? come un ceto senza stelle come pupo triste eh eh terso un ceto terso 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 vabbè andiamo avanti terso terso ah guardi io non potrei vivere senza questo la goduria questa cos'era? la goduria della mattina quando io prendo le mie dieci compresse sono dieci di colore diverso per non confondermi e poi al pranzo che bellezza che bella ma era come quello di prima no c'era l'appetito sono quindici bustine al pranzo che non me ne toglie nessuno E' dolce sin fungo I miei due litri di sciroppo a cena non me li deve togliere nessuno Due litri di sciroppo Quindi se qualcuno in questo momento avesse bisogno di assura, di acidità, di brucio e avesse bisogno anche di un mezzo cucchiaino di sciroppo Per me può morire Questo è pubblico nostro, potrebbe essere pubblico Assolutamente, molte sue vitamine Poi il dottore ha parlato chiaro, ce l'ha scritto nella ricetta cocktail di sciroppo e due litri devono essere Quindi, manco, oh, che bello Guardi, io adesso proprio... Io mi sento contagiato dalla goduria proprio dei suoi farmaci E anch'io non potrei far... com'è? Me la faccia sentire Aaaaah! Non potrei fare a meno delle mie venti supposte prima di andare a letto Venti supposte prima di andare a letto? Ma che è un cammello, eh? Ma perché sta gritando? Perché continua a gritare? Ma mi rischio io costato prima la vagginite, l'eiaculazione pregoce, ora pure le supposte Anzi, a proposito, ma che supposte sono? Incolax da 800 euro Lo sapevo, lo sapevo Praticamente dei cirugli Eh, la bellezza, eh? Tongo solo l'involcro e le escursioni qua entrano che è una bellezza Ah, si Traforo del punto e piano Traforo, via, la grande, eh? Ma il collaudato, collaudato Ah, che bellezza, eh? Che bellezza Comunque lei prenderà così tante farmaci, guardi, ma non come quanto ne prendo io Si deve figurare che io ho completato la raccolta punti della mia farmacia Quella del 2014, eh? Che cosa ha vinto? Un'ecografia al retto con 2.000 punti E vai! Ma il retto? Si, l'ho vista, l'ho vista, certo Per ginetto, per ginetto L'ho vinto, l'ho vinto Vabbè, che lei niente ha vinto Ora, potete mai pensare che uno così che è perfettino, che ha più malattie delle mie, che ha più... Allora, ci faccia sognare, ci faccia sognare Sì, sì, sì Intanto sono stato nominato miglior malato dell'anno, 2013 parte del 2014 Alla grande Lei quanti punti? 2.000 Io 20.000 E certo la proporzione deve essere Quindi non le trombe Eh? Ho vinto una conditura completa, a vita, di inculax, da 1.500 proporzione delle 2.000 La vote o, siccome raggiunte il massimo della mia soddisfazione La strada qua bisogna togliere tutto, in volubro, tutto, smussare gli angoli, qua è più difficile Certo, certo, certo Ma mi dico un'altra cosa, medicina per il mal di pancia? Ah, guardi qua fa un fugo nell'acqua Vomitox compresse prima dei pasti Diarlex, sciroppo dopo i pasti e dulces in fungo, una bella supposta di pelex per via orale Una supposta di pelex per via orale Eh, ma perché sta facendo così? Ma che spreco Ah, ho capito Cioè, lei butta noce così e si fa così, non l'ho capito Io ho fatto così con lei Ah E poi una supposta di pelex per via orale è più efficace E' più efficace? Si E fa schifo, mi fa schifo Ma come le fa schifo? Mi fa schifo L'unico caso al mondo di uomo, anzi nella galassia, di uomo con lavagginite che ha una eiaculazione precoce Vabbè, aspetti, qua dico una questione e ce ne sarà sicuramente Vedi, il signor lo dico, ce la faccia meglio con la azione precoce Ma perché lo diciamo noi La moglie non lo dice perché... Ma ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Ce l'ha, ce l'ha Ma vabbè signora, meglio noi che... Siamo subito E comunque... E pure lei inculazza, lei mi fa schifo ed è pure senza dignità Oh! E poi ce l'ho detto Ah E intanto si calmi che le può venire qualcos'altro Non mi può venire più niente perché io ho completato l'album delle malattie e sono emono deficiente Forse siamo più deficienti E sarò pure deficiente Eh la camera operatoria è pronta? Potete venire... Vieni, vieni, andiamo, andiamo, andiamo andiamo Andiamo, 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 andiamo Andiamo, 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 ebbiamo Il tempo è scaduto E adesso lo dobbiamo aspettare Eh, lei vorrà dire che aspetta la cresima e io il matrimonio, no? Andiamo, andiamo.